Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Il traffico si sta intensificando in A1 in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, in A11 in direzione Firenze, tra Prato Est l'allacciamento con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola, e in FIPILI tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sempre in FIPILI possibili disagi per un incidente avvenuto tra Albivio Colla 12 a Colle Salvetti e Interporto Toscano Est in direzione Livorno. Oggi è in programma uno sciopro nazionale del trasporto pubblico locale. A Firenze la protesta si terrà dalle 13 alle 17 per quanto concerne la tramvia e dalle 17 alle 21 per quanto riguarda il TPL su gomma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!